Dalla scienza Enervit, Enerzona, Maki RX Polifenoli, l'antiossidante davvero prezioso. Il Maki è una bacca simile al mirtillo, di colore blu intenso, ricchissima di polifenoli antiossidanti. La pianta cresce spontanea sulla remota isola Robinson Crusoe, a largo del Cile e nella Patagonia cilena. Enerzona Maki RX è davvero prezioso perché a base di estratto di Maki, frutto con un elevato contenuto di polifenoli e un'altissima presenza di delfinidine. Davvero prezioso perché contiene anche vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e vitamina B5, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Prendi Enerzona Maki RX Polifenoli prima dei pasti. Puoi assumere la capsula direttamente o versarne il contenuto in un bicchiere d'acqua. La polvere si scioglie subito perché è perfettamente idrosolubile. Enerzona Maki RX Polifenoli, l'antiossidante davvero prezioso.